Lo scorso mese di aprile il contratto di lago del Cusio è stato ufficialmente presentato in Venin nell'ambito del progetto di cooperazione internazionale Talent, promosso da Anci Piemonte, che mira a contribuire allo sviluppo sostenibile del paese africano, migliorando le condizioni di vita delle popolazioni locali. Il progetto ha tre obiettivi specifici, migliorare la governance locale attraverso la collaborazione tra associazioni rappresentative dei comuni. Si stacca tornante destro? Non arrivare lungo, sfrutta la Promo Motori. A solo 5,90 euro per un anno vedrai le immagini della serata evento per il sessantesimo compleanno del Valli Ossolane, le dirette di tutti i rally locali e potrai accedere ai due canali TV e leggere tutti gli articoli. Approfitta della Promo Motori perché non ci sarà più.